L'accusa è delle più gravi, stupro, ed è a carico di un giovanissimo di buona famiglia, accusato di aver violentato una quindicenne. Per lui, il PM Alessandra Falcone ha richiesto tre anni e un mese di reclusione. Il procedimento penale riguarda la presunta violenza sessuale imputata ad un ventenne biturgenze che, secondo il racconto della vittima, una quindicenne Umbra, l'avrebbe violentata durante la Notte Bianca di Sansepolcro, il 15 luglio 2012. Il giovane ha sempre professato la sua innocenza di fronte al GUP Anna Maria Loprete raccontando di una notte trascorsa in compagnia di amici e di qualche, forse troppe, bottiglie di alcol. I due si appartano in via della Castellina ed è qui che sarebbe avvenuto il rapporto sessuale, volontario secondo lui, non consensiente secondo lei. Gli amici si accorgono che c'è qualcosa che non va e la notte finisce con un codice rosa al pronto soccorso di Arezzo. L'udienza preliminare davanti al GUP Anna Maria Loprete si è tenuta alla fine dello scorso novembre quando i legali del giovane, Giuseppe e Luca Fanfani e Franca Testerini, hanno fatto istanza di lito abbreviato accolta. Non ci sarà quindi dibattimento in aula ed il verdetto prevederà lo sconto di un terzo della pena.